E' già sold out per Filomena Marturano, commedia in tre atti, scritta da Edoardo Le Filippo che domani approda sul mona nel teatro comunale Maria Caniglia, nell'ambito della rassegna teatrale in prosa. Ad interpretarla saranno già Pigligesis e Maria Angela D'Abraccio per la regia di Liliana Cavani, definito lo spettacolo dell'anno. A conclusione dello spettacolo, gli spettatori potranno partecipare a un incontro con gli attori nel foyer. Edoardo Le Filippo viene interpretato e messo in scena in tutta l'autonomia espressiva, senza imitazioni del grande autore e attore. Maria Angela D'Abraccio appare al massimo delle sue capacità d'attrice, Pigligesis e Sissaro di Grazia. Ad ogni replica si registrano puntualmente lunghi minuti di applausi e veri e propri stenghi innovation. La regista Eliana Cavani offre un'indimenticabile prova del suo debutto nella prosa, dialogando magicamente con Edoardo. Una commedia che porterà a un nuovo evento di rinascita per i canigli all'interno di una stagione teatrale apprezzata che sta facendo tornare il teatro agli antichi splendori.